Diamo la parola ad Antonio Olorato, prego. 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 E' un ruolo tutto in marina, e chi ne dà la nostra cucina, ma non è una compagnia che ti puoi aiutare. E' cambiato ma tu sì, te l'hai cambiato pure tu, e' tornata a Cristo così, ma vinta a Chiesa o Gesù. E' cambiato ma tu sì, te l'hai cambiato pure tu, e' tornata a Cristo così, ma vinta a Chiesa o Gesù. Grazie a tutti, grazie a tutti.